Più o meno un anno fa avevo detto che avrei fatto, o comunque che stavo valutando di fare, quindi non sono stato così pessimo, un aggiornamento trimestrale o anche forse mensile, se ci fosse stato qualcosa di interessante, sulle mie finanze, su come investivo appunto il mio piccolo patrimonio, cose simili. E' passato un anno, quindi eccoci qua, e tra l'altro ora vedrete la situazione forse non rosea, ok, delle spese, entrate eccetera, e proprio ieri ho visto un video di Mr. Rip dove lui ha patrimoni con un paio di zeri in più e anche i ricavi, entrate, ma anche spese diverse dalla mia, però mi ha fatto sorridere, diciamo, perché per chi lo segue comunque avete visto che non so se sapete che è Mr. Rip, è comunque un youtuber che parla di finanza, abbastanza seguito, un'altra serie di informazioni in caso metto giù il link e lo andate a vedere. Ed è interessante che uno con un patrimonio come il suo, che ha ovviamente spese diverse, perché io sono da solo, abbiamo una famiglia e così via, sta in una situazione forse non perfetta e sebbene con appunto scale, quindi numeri, zeri, diversi, ci sono in parte ritrovato. Ok, quindi prendo questa quasi buona abitudine, quasi, non so se lo farò trimestralmente, mensilmente, questo ancora è da decidere, forse magari una volta al mese lo si fa, non lo so. Però ecco, prendo comunque il mio tracker in cui mostro comunque, cioè mostro in realtà dove io traccio il tutto e calcoliamo quanto ho speso, quanto ho guadagnato non lo so. Adesso mi va bene mostrarlo perché non è il mio stipendio, per vari motivi comunque quello ho guadagnato questo mese e lo scorso mese non è il mio stipendio, quindi non mi interessa, sono cifre così. Sono cifre reali che ho incassato, ma non è appunto la cifra che da tra due mesi non sarà la stessa cifra. Credo che anche il prossimo mese guadagnerò in modo diverso da quello che appunto sarà il mio stipendio fisso. Quindi va bene, poi in futuro non lo so, capisco se parlare anche del mio stipendio, cioè se mostrarlo oppure no. Però andiamo a parlare del resto. Giusto piccola premessa, importante, io lavoro parecchio, nel senso che io lavoro più di 12 ore al giorno fisso e purtroppo per fortuna, perché alla fine comunque è una mia scelta, lavoro molto di più. Quindi vuol dire che il lavoro è la priorità su tutto, queste cose qui, quindi sia YouTube ma anche il tracker che mi serve a me, hanno certe finalità diverse. Nel senso che il canale YouTube, lo sapete, è una cosa che faccio comunque quando posso, con calma, infatti sono periodi in cui per due mesi non pubblico e vabbè non ho avuto tempo. Il tracker invece ha una sua funzionalità molto importante, perché è in parte ansiolitica e in parte anti emozioni ansiolitiche, perché senza un tracker non so quanto guadagno, non so quando mi esce, impazzisco. Però vuol dire che non deve essere perfetto, quindi questa qua è solamente una bozza, una versione attuale abbastanza bruttina, abbastanza non fatta bene, però è funzionale. Nel senso, tra due o tre mesi spero di cominciare a lavorare un pochettino meno e di avere più tempo per fare queste cose. Andiamo quindi al dunque, partiamo dai, non lo so, ricavi. Questa piccola tabellina, considerate che come vi dicevo non è per nulla completo e questo qui è un tracker che ho fatto di recente, circa un mesetto fa. In realtà finora ho utilizzato altri tracker, però non mi piacero neanche, non mi soddisfacevano diciamo. Quindi per l'appunto, per adesso ho fatto questo qui, è una bozza, con calma ora migliorerà. Non so se lo vedete, questo dovrebbe essere verde, però va bene. Allora, qual è il punto? Come vi dicevo, in realtà questi non sono i miei due stipendi. Ottobre comunque, anche se non è il mio stipendio, mi è andata bene, nel senso appunto sui 4.000 euro un po' di più. Novembre è andata abbastanza male, nel senso che in realtà io guadagno sempre la stessa cifra, ok? Che appunto è quella che adesso non mi va di dirvi, ciao. Però, diciamo, il problema è che guadagno in modo diverso, nel senso il mio salario, sebbene in realtà è un salario fisso, cioè io so che la montare è quello, è diviso in più parti, ok? Ad esempio, una parte per l'affitto, una parte eccetera, quindi l'azienda per cui lavoro, non so se l'ho mai detto, oramai faccio un excursus veloce, però ecco, l'azienda per cui lavoro mi pagano una somma. Questa somma è praticamente quella, nel senso durante l'anno so che è quella, mensile. Il problema è che, sebbene lavoro con una delle aziende più grosse al mondo e nel mio dipartimento, anche con i salari migliori tra il mondo eccetera, hanno una piattaforma informatica, come possiamo dirla, non particolarmente efficiente, per cui una parte, ad esempio in questo caso, mi arriva senza problemi, un'altra parte no. E questo potenzialmente può essere un problema. Quindi per adesso, intanto, ho preso questi 1700€ che, per fortuna, è il motivo per cui ho detto che è del video di Mr. Rip che mi ha fatto sorridere, nel senso, voi vedete le spese, per me è un qualcosa di molto ansolitico, guadagnare solo 1700€ con le spese ovviamente che ho. Mr. Rip ne ha presi 4000€ perché ho visto il suo video, però di ottobre ne ha presi 4000€ però ne spende 10.000€, quindi ovviamente lui è ancora qualcosa di ancora più ansolitico, penso guardare quello spreadsheet per lui, per me. Sebbene lui ha 2 milioni di patrimonio, che un po' le cose le cambia. Però va bene, quindi niente, ho preso questi, appunto, 1700€, qua un po' di più, sui 4000€. Il prossimo mese, a dicembre, in realtà io spero già da domani, perché in realtà siamo già ai primi di dicembre, adesso le sto facendo questo video, però spero che già lunedì mi dovrebbero arrivare, appunto, alle restante parte. E quindi là dovrei essere più tranquillo, però mi arriverà? Con questi problemi che ci sono? Non lo so. Andiamo, quindi, direi, alle uscite. Anzi, già giusto per una cosa, ovviamente io più o meno sono soddisfatto, nel senso, di quanto incasso. E ora vedete, comunque, andiamo subito alle uscite. Io non spendo particolarmente tanto, ho uno stile di vita abbastanza, come dire, tranquillo, non spendo anzi niente, quasi. Però ho una startup allo stesso tempo, come appunto chi segue più video sa, e quello vuol dire che succhia tanti soldi. E devo soprattutto sapere che potenzialmente mi potrebbero servire 1, 2, 3, 5000€, 6000€, quello che è, da dover, appunto, investire nella startup nel caso in cui vogliamo farla crescere. Perché adesso noi, tra due mesetti circa, non so se questo video uscirà prima o l'altro, perché appunto, come dicevo, YouTube va dietro il lavoro. Quindi diceva dopo, scusatemi, al lavoro, quindi non so mai. Ok, però in generale tra 2-3 mesi noi apriamo un altro anno di investimento, con la startup. Quindi raccogliamo un po' di soldi. Anzi, cominciamo, perché è un percorso abbastanza lungo. E abbiamo già qualche investitore interessato, qualcun altro lo stiamo sentendo. Ma appunto saranno i prossimi 6 mesi che saranno identificativi di quanto andremo a raccogliere e con chi. Però probabilmente io, non sono anche gli altri founder, perché l'altra mano ho detto di sì. Però ecco, io probabilmente dovrò mettere qualcosa, cioè rinvestirò, e anche i founder lo rifaranno. Quindi devo ogni volta ragionare, ok, anche se questo mese magari ho messo a parte 2.000€, quanto è che mi servirà di rinvestire tra X tempo? Poi vabbè, sulla startup comunque faccio un po' di video perché è complicato il motivo per cui servono quei soldi. Cioè, in realtà non è così complicato. Però nel business model dobbiamo acquisire un'altra struttura, cioè dobbiamo aprire altri tre centri a Roma, perché stanno andando abbastanza bene il business, però stanno andando potenzialmente troppo bene per la struttura che noi abbiamo, è già piena. Nel senso, a livello proprio di stoccaggio, logistica. E quindi ci serve una parte più grossa, attento che il servizio si abbassa di qualità. Beh, tutta una serie di cose, però capite che appunto io posso anche risparmiare 1.000€ al mese, potenzialmente mi andrebbe più che bene, però probabilmente tra 3 mesi devo investire molto di più. Quindi è un po' un problema. Ora vediamo. Quindi uscite, anche qui vedete che è fatto un po' così. Io negli ultimi due mesi ho speso 4.000€. Perché? Ah, ok, chiarissimo. E ho avuto un momento. Allora, considerate che tutti i mesi precedenti ancora non li ho, non ho fatto appunto il trasferimento di informazioni degli altri file a questo, perché non ho tempo. Ok, però intanto per me adesso l'importante non è poter fare analisi storiche o vedere, eccetera, perché ho gli altri tracker. Mi serve però mese per mese capire esattamente quanto ho speso. Alla sinistra comunque sono tutte le voci delle spese. non è anche qui definitivo, neanche per il sogno. Praticamente ho preso da un video di Pietro Michelangeli un po' di voci, che è un video che lui ha fatto ormai 2-3 anni fa, e io vi dico il video un mese dopo, penso che lui lo pubblicò. Comunque, beh, avevo utilizzato non proprio quel file, però ho preso spunto per i tracker che poi ho fatto, e allo stesso tempo poi online, comunque più o altro americani, ho preso vari spunti. Mr. Rip, la prima volta che ho visto il tracker è stato, il suo tracker è stato ieri, però graficamente non conface con quello che cerco, quindi non ho preso spunto. Però ecco, queste cose comunque devono cambiare, e alcune di queste voci sono le stesse voci di Hype. Hype è la carta, non so se chi ha visto il video sulle carte, Hype è la carta che io utilizzo per le spese, quindi ho il mio conto principale e mando mensilmente una somma, che in realtà dovrebbe essere un modifico automatico, ancora non l'ho fatto, di questo mese ho mandato 1000€ su Hype, e tramite Hype poi pago le cose che devo fare, così mi tiene traccia di tutto, è fatta abbastanza bene, e quindi più o meno alcune di queste voci, ad esempio alimentari, l'ho presa da Hype, perché la chiama in quel modo. Andiamo a vedere, ottobre, quindi oggi facciamo in realtà due mesi in uno, allora anzi facciamo settembre, in settembre ci sta questa voce 845, che sono, per chi mi sono trasferito in Belgio, quindi sono l'affitto, che vediamo qua sono 640€, però comunque l'abbiamo fatto tramite una piattaforma, perché io stavo ancora in Italia, non avevo voglia alcuna di andare prima in Belgio a guardare la casa, e ci stanno delle piattaforme come MyHousingAnywhere, credo di aver prenotato con quella, o MySpotahome, non mi ricordo, che ti permettono di andare in quella, anzi di poter affittare una casa e pagare, quindi bloccarla, però i primi due giorni in cui tu entri effettivamente in quella casa, quindi io il primo ottobre se non ricordo male, hai la possibilità di dire, no la casa non era nelle condizioni in cui io speravo, e questa casa totalmente non era in quelle condizioni, però non mi andava di cercare un'altra, mia mamma ancora mi odia per questo, e quindi vabbè comunque ho pagato questo sovrapprezzo, questi 845€ fanno parte dei soldi che in realtà mi dovrebbero tornare, appunto dall'azienda, che non mi sono ancora tornati, tra l'altro io adesso la spesa l'ho messa qui, e non so in realtà come fare per la parte di account accountant, cioè la contabilità, nel senso teoricamente non mi interessa, penso che faccio così, e magari appunto un accountant, tanto i commercialisti eccetera possono odiarmi, però credo che metterò la spesa, la lascio qui perché in realtà l'ho fatta in quel momento, però quando mi entrerà la parte appunto dell'azienda, la metterò penso a dicembre, perché spero che mi entrino a dicembre, e a dicembre penso metterò la cifra, non mi interessa se sia giusto o meno, però ecco così ho tutti i ricavi, tutte le spese, ovviamente lo metterò qua, lo metterò in ricavi qui, penso in realtà lo inserirò pure in stipendio principale, ci sarà appunto lo stipendio normale, più appunto questi rimborsi dell'azienda, non mi interessa. Poi ottobre, alimentare ho speso 402 euro, che è tanto, è parecchio, perché? Anzi ve lo dico dopo, affitto 1280, perché ho pagato sia l'affitto, sia ho pagato, sì, ho pagato l'affitto, e ho pagato poi una mensilità aggiuntiva, quindi secondo me in realtà qua mi manca un affitto, o forse no, forse non, ah no ecco, perché l'affitto di ottobre l'ho pagato a settembre effettivamente, a ottobre ho pagato due mensilità di caparra, di caparre, vabbè, ok, chiarissimo. Poi taxi, questo qua perché sono venuto con l'aeroporto, l'aeroporto qui a casa mia, treno, erano una quarantina di minuti, proprio avevo due valigie, ho preso un taxi, costavo 38,90 euro. Poi qua abbiamo scene e pranzi fuori, ne parlo dopo, è tantissimo, anche qui ora vi spiego il perché, abbonamenti digitali 7,99, Netflix, che da questo mese non pagherò più, quindi abbiamo risolto, in realtà lo stesso però lo paga Papino, e hanno ovviamente fatto, no vabbè, cose private non dico però, ho l'account gratis. Poi viaggio, 80 settembre, perché sono tornato in Italia, ce l'ho fatto Roma-Bruxelles, anzi Bruxelles-Roma perché sono tornato, e ho speso, in realtà una settantina di euro, andata a ritorno, fenomenale, però perché ho viaggiato comunque, sono partito sabato sera, sono tornato sabato sera della volta dopo, quindi comunque costa poco pure, perché erano periodi un po', e chi parte il sabato, io, basta. Va bene, poi elettronica e software, 50 euro, non mi ricordo che cosa avrò comprato, ah, elettronica e software, ho comprato queste cose qua, Rowenta, che tra l'altro se l'ho comprato pure mio fratello, perché si era rotto il suo, e vabbè una bilancia, un'altra serie di cose così, varie, 7,15, non ho proprio idea di che cosa sia, cioè so che Mr. Rip lo fa super puntuale su ogni cifra, ma a me non interessa di sapere alcune cose, cioè in realtà qua andrò a mettere le note, poi penso lo specificherò, alimentari, e ce ne pranzi fuori, perché dico che praticamente ho speso 600 euro, no, 600 euro no, ho speso 531 euro, 32 euro, perché tantissimo? Perché io, praticamente, visto che lavoro parecchio, ok, la mia azienda, quando fa i tardi, ok, tardi per me non vuol dire fare le 6 e mezza, ok, però ecco, quando fai tardi puoi prenderti, abbiamo un account su Deliveroo e puoi ordinare fuori, e quindi mangi in quel modo, poi abbiamo a pranzo una mensa convenzionata, dove non paghi niente, quindi vuol dire che io settimanalmente, solo da quell'account Deliveroo, secondo me spenderò sui 25 euro, a botta, quindi fate 25 per 3, e l'altra volta deve pure 30, credo, vabbè, e a pranzo non pago nulla, quindi in realtà io ho tutti questi soldi qui, che sono appunto più di 532, una cosa simile, vuol dire che, vuol dire che ho speso 30, tanti soldi, perché vuol dire che io in realtà, se fate 3, 6, 9, 12, 12 giorni su 30, in realtà non pago quasi niente, ok, per farvi capire, l'altro ieri ho pagato 99, no, 89 centesimi in un'intera giornata, tutto il cibo che appunto ho mangiato, quindi, è perché anche, no, mangio fuori queste cose qui, è tutto pagato, quindi, alcuni giorni io pago solo 99 centesimi, 80 centesimi, 1 euro, 2 euro, vuol dire che, appunto, negli altri, negli altri giorni, e infatti, il mese dopo, novembre, alimentari, 193 euro, perché dico 3 giorni, perché, sto in ufficio solamente 3 giorni a settimana, 2 giorni sto smart, quando sei smart non puoi, non puoi ordinare, credo, perlomeno, io non l'ho mai fatto almeno, dobbiamo informarci, ok, poi, affitto abitazione, pago 640 euro al mese, sebbene in realtà, sono 640, più 20 euro ogni 2 mesi di pulizie, non ho mai visto nessuno pulire, e quindi in realtà, sono 650 euro al mese, quei 20 euro non li pago, finché non vedo, effettivamente, una persona che viene, ma qui non so se avete visto gli altri video, c'ho gli scarafaggi in cucina, cioè, dobbiamo cambiare casa, va bene, poi, trasporti, vabbè, 20 euro, avevo preso Flix, Boost Taxi, queste cose qui, sport palestra, mi sono iscritto in palestra, Basic Fit, questa qui, dove, io ho l'account Apple, in Italia, Basic Fit ha pensato bene, di far sì che io posso scaricarmi, appunto, la loro applicazione, è solamente in Belgio, o in Francia, o in Lussemburgo, o qualche altra nazione in cui sono, ma non in Italia, e quindi ho pagato 20 euro in più, per questa carta qua, così non devo entrare con l'app, e vabbè, in totale, 64 euro, perché ho pagato un mese di abbonamento, visto che poi a dicembre, ci sto, e poi a un certo punto, torno in Italia, e, vabbè, ho pagato parecchio, per un mese, 64 euro, però in teoria, c'è iscrizione, c'è questa carta, che sono costi, che non dovrò rifare, andiamo avanti, questo cos'è, appunto, questo mese, sono andato un po' più, ce ne pranzi fuori, in realtà, non ho pagato, 234 euro per me, sebbene, comunque, ho pagato, ecco, praticamente, la stessa cifra dell'anno, cioè del mese precedente, no, in realtà, un po' di meno, sotto i 500, però in questi 234, ci sono un po' di cene, per la mia ragazza, quindi, ok, in realtà, ha tolto quello, è andato abbastanza bene, lato personale, divertimento 110 euro, no, queste sono donazioni regali, allora, questi qua sono, questi qua sono dei regali che ho fatto, invece, poi, divertimento laser tag, sebbene anche questo qui è per me, per la mia ragazza, arredamento casa, niente, ok, cultura 27 euro, perché? Allora, mentre facevo alcuni regali, ok, e altre, per l'appunto, cose, stavo in libreria, per comprare, appunto, un regalo, a forma di libro, queste cose qui, e, vabbè, visto che sono appassionato di libri, ho comprato due libri, allora, ho comprato questi libri, tra l'altro, me li sono fatti incartare a modo di regalo, visto che tanto già stavo facendo incartare gli altri, è stato un momento carino, ho comprato, parlare in pubblico, questo qui, questo libro qui, parlare in pubblico, farsi capire, farsi ascoltare, persuadere il gruppo, allora, perché l'ho fatto? Perché comunque, uno, sto su YouTube, ok, quindi, saper comunque comunicare un pochettino meglio, mi aiuta, ma poi in generale, sono in tante occasioni, cioè, costretto, tante occasioni, devo parlare appunto, con delle altre persone, per lavoro, per business, per anche affetti banalmente personali, quindi capire meglio come funzionano le relazioni umane, capire meglio come comunicare, come esprimersi, aiuta, molto bello, ci farò un, farò un video sui 12 libri, che in realtà saranno di più, che voglio leggere nel 2024, poi ho comprato invece questo libro di Jordan Peterson, 12 regole della vita, un antito a caos, ora, so che Peterson, potenzialmente un personaggio controverso, per chi lo conosce bene, per chi non lo conosce, nel senso se uno vive un po' il, come direi, lo YouTube, l'internet inglese, per forza di cose credo che lo conosca, però, vabbè, comunque su certe cose controverso, su altre cose no, lo leggo, è interessante perché comunque questo qua, parla anche di alcuni aspetti psicologici, Peterson comunque appunto è un psichiatra, o uno psicologo, credo sia uno psichiatra in realtà, in America, negli Stati Uniti, o addirittura in Canada, non mi ricordo se è canadese o americano, perché in Canada so che ha avuto appunto, per alcune affermazioni che ha fatto, libri molto interessanti, sono da leggere, e adesso che torno in Italia, perché lì ne ho alcuni, che devo leggere, però adesso che torno in Italia, me ne porto un'altra decina, e poi lì farò il video, perché l'altro l'ho già comprato, solamente che in valigia non potevo metterli, sebbene in realtà non è vero, perché l'azienda mi aveva comprato un biglietto di business class, avevo due valigie grosse, però come vedete là, una l'ho portata grossa, l'altra l'ho portata piccola, non mi è andata di portare due valigie grosse, quindi adesso che torno, li prendo, e poi niente, viaggi, e qui poi non aspetta, nel senso io sono appena stato dal parrucchiere, ok, e negli ultimi sei anni, ho abitato a Roma, zona salario parioli, ok, per chi comunque è di Roma, chi non lo è, zona salario parioli, e che è una zona abbastanza costosa, in realtà io ci stavo per l'università, perché era in quelle zone lì, e vi devo dire che, paragonando i costi appunto di quella zona, con Bruxelles, ho pagato 15 euro al parrucchiere, nel senso pure nelle cittadine, secondo me, tra Roma e paghi 15 euro, io non sto dove abito, sicuramente nel quartiere più ricco di Bruxelles, quindi non è, sto paragonando effettivamente, non so, i parioli di qua con i parioli di Roma, che è uno dei quartieri più ricchi, però, per farvi capire che più o meno il costo della vita, se lo paragoni con città come Roma, come Milano, Giustel, stiamo là. Vi dico giusto una cosa, io nei prossimi mesi, aggiusterò pure qua investimenti e patrimonio, patrimonio attualmente è totalmente vuoto, qui ho messo cifra a caso, infatti qua ho scritto 150 mila euro, una cifra a caso giusto era, perché volevo appunto far vedere i valori delle aziende, e che non è questo neanche in lontananza, anche qui purtroppo per fortuna, e investimenti anche qui l'ho lasciato praticamente vuoto, patrimonio credo che comunque appunto voglio fare valore delle aziende, valore investimenti finanziari, liquidità, fondi vari eccetera, questi comunque sono più che altri appunti, devo aggiustarli, investimenti invece vorrei fare una cosa più chiara, nel senso che adesso io qui ho messo solamente investimenti in aziende, quindi ad esempio a ottobre ho speso 2000 euro da investire appunto nella azienda, e qui niente, però comunque ecco devo mettere una cosa, investimenti finanziari lo voglio fare fatto bene, non ho un grande patrimonio, però comunque è interessante, cioè almeno lato mio è interessante vederlo, io per adesso ho usato tracker, ho usato tracker e utilizzo tuttora tracker online per tracciare il tutto, però lo voglio fare su Excel. Ok andiamo verso la conclusione, visto che sono tipo 30 minuti che sto parlando, questa è la situazione attuale, ora qui investimenti totali, liquidità, investimenti totali più o meno è vero, nel senso negli ultimi mesi ho speso solamente questo, liquidità ovviamente non è questa, perché come dire, mancano tutti i mesi precedenti, però per farvi capire perché ho avuto un po' di come dire timore, lato mio, io in media tranne appunto ottobre ho dovuto dare le caparre, spendo sui 1300-1400 euro al mese, quindi vuol dire che questo mese ho messo a parte solo 336 euro il 18, e rimarrà questa come cifra perché appunto ora tutta la parte che non mi hanno dato, non mi hanno versato, io la metterò il mese in cui effettivamente me la verseranno, giusto o sbagliato che sia, quindi comunque a dicembre ci sarà appunto la parte che non ho ancora ricevuto. E va bene, nel senso una volta che la riceverò io starò una pacchia, però finché non la ricevo il mio punto è semplicemente che io guadagnavo solamente 336 euro, in più ora dicembre dovrò volare, domani credo che comprerò i biglietti per tornare in Italia, dicembre, gennaio, il primo di gennaio dopo capodanno subito torno qua, e poi dopo una settimana torno giù in Italia di nuovo, quindi comunque pagherò un sacco, secondo me questi 336 euro partiranno solamente per voli, e per me è molto ansolidico, per me è molto ansolidico sapere che qua in realtà c'è una grande differenza con Mr. Rip, nel senso lui ha una famiglia e perché lui adesso ha un cash flow negativo, nel senso lui comunque, o almeno a ottobre non ho ancora visto quello di novembre, però ecco lui a ottobre ha avuto meno entrate rispetto ai costi, io per fortuna spendo molto di meno di lui, uno perché lui sta in Svizzera e due perché lui ha una famiglia, e in ogni caso lui ha un patrimonio di 2 milioni di euro, ok, quindi sicuramente può fare ragionamenti diversi, però allo stesso tempo c'è un grande ragionamento che io per fortuna posso non fare, nel senso lui ha una famiglia, una famiglia che conta su di lui, vuol dire che se lui dovesse avere dei problemi finanziari, ha assolutamente un'ansia maggiorata di, non lo so, un moltiplicatore per 5 mila direi, io male che va devo tornare dalla mia famiglia, che però è una cosa che mi ucciderebbe, nel senso dover tornare dalla mia famiglia perché non ho appunto abbastanza finanze, è una cosa che non reputo intelligente, però adesso comunque, al di là di questa cifra che sta scritto qua, ho abbastanza di equità per stare a posto per parecchio, col tutto che io adesso non sto investendo, nel senso non di queste due cose di liquidità adesso qui, quindi questi quasi 3 mila euro che ho guadagnato negli ultimi due mesi, che mi sono entrati in liquidità, quindi puro in cassa non l'ho toccato, nel senso stanno appunto lì, più in realtà c'ho avuto tutto quello che avevo prima in liquidità sempre, quindi sto a posto, però per me è fondamentale non toccare mai appunto il denaro che ho investito, cioè nel senso è proprio un, no mantra mio, se per chi ha visto Naruto ci sta una parola tra i ninja, che appunto nella serie Naruto, che dicono sempre aveva comunque il mio, un pallino che ho e non toccare mai investimento, nel senso caricare sì, anche se non lo faccio ciò da un po', non ho mai tirato fuori un euro, non l'ho mai tirato fuori un euro da quando ho cominciato a investire, e non voglio cominciare a farlo, ok? Quindi per me l'importante è avere abbastanza di liquidità, nel senso per me è greve, cioè non so se, cioè ora non riceverò un sacco di insulti secondo me, però per me ottenere 1700 euro, spenderne 1363, col tutto che a dicembre ne spenderò secondo me sui 1500, 150, 1600, cioè quindi veramente nel caso in cui anche a dicembre ci dovessero essere problemi nella piattaforma, dovessi guadagnare questi 1700 euro e basta, quindi a dicembre dovrei stare, non lo so, sui zero, o magari guadagnare, cioè risparmiare solo 50 euro, o addirittura andare negativo, non ci vado, smetto di mangiare, però al di là di quello, magari guadagno solo 50 euro in risparmi, per me è pesante, cioè nel senso dovrei tornare dai miei genitori, al di là che non posso perché non lavoro, però è greve, è greve, nel senso ho avuto un paio di discussioni in cui mi dicono, sì vabbè ma per l'azienda in cui lavori, cioè sicuro che te li danno, certo, non ho detto tra l'altro che lavoro faccio, ma rifaccio un altro video, però ecco cioè, la mia azienda non fallisce, se dovesse fallire fallirebbe, non lo so, è una banca sistemica, quindi non fallisce, o comunque le robe messe proprio in ginocchio se dovesse fallire, però non si sa mai, nel senso non si sa mai se effettivamente riescono a risolvere problemi, cioè in torino hanno detto che i pagamenti sono ongoing, quindi dovrebbero arrivare venerdì scorso, e non sono arrivati, oggi è domenica, vediamo dovrebbero arrivare, però ecco, non so se si percepisce, però per me è veramente pesante, cioè è veramente pesante pensare che ho risparmiato 336 euro, dicendo che il mese prossimo magari risparmio su 50 euro, greve, col tutto che stiamo facendo un round di investimento, quindi probabilmente do rocca, cioè do ro, è più una mia volontà, perché in realtà non sarebbe necessario, però voglio investire di nuovo e supportare, per dare un segno di investitore, guardate che sto a investire pure io, spero che arrivano questi soldi, e niente, comunque questa cosa qui, questa riflessione, questo video è andato troppo per lungo, mi fa sorridere, nel senso mi fa ridere, cioè ridere, piangere, però ecco mi fa sorridere che io nella mia situazione, oggi mi si è preso come un attacco ansolitico pesante per queste cose qui, infatti domani la prima cosa che faccio è scrivere alle charre, per la quarta volta, dove sono, i soldi, però mi fa sorridere che, se voi guardate il video di Mr. Rip, lui è molto più dettagliato, nelle spese che appunto segna, e tu vedevi che scorreva, ad esempio, childcare, quindi credo che sia tipo l'asilo per i bambini, gli spende delle cifre folli, perché sta comunque in Svizzera, e tu comunque lo vedi che ha un po' di ansia, non un'ansia mia, perché la mia è più un forse orgoglio, che non voglio tornare appunto dalla mia famiglia, nel caso, lui invece è una cosa del tipo, ho una famiglia da mantenere, c'ho tre bambine piccole che devo mantenere, quindi in realtà sono due ansie totalmente diverse, la mia è stupida, forse, la sua è un'ansia da padre responsabile, quindi totalmente diversa, però niente, mi ha fatto molto sorridere. Va bene, ci vediamo il prossimo mese, o quando riesco a farlo, sperando che per l'appunto dicembre, non mi diano solamente 1700, ma mi diano sia lo stipendio completo, sia appunto il denaro che mi dovrebbero dare, altrimenti si piange, ciao.